Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi parliamo di una cosa che mi avete chiesto in tanti in realtà, più su Instagram che qua sopra ovviamente, però insomma penso possa essere un video chiacchiericcio e discorsivo che può interessare secondo me anche a tanti di voi. Infatti oggi vorrei discutere di due tematiche di attualità, ovvero parliamo di politica e non solo, di andamento dell'editoria in Italia e di come funziona l'editoria in Italia e quali importanti novità sta per affrontare. Non è il mio discorso per candidarmi alle prossime elezioni politiche, in realtà voglio che sia un video stra mega chiacchiericcio e molto molto terra terra, ci tengo tantissimo, però insieme vorrei parlare con voi di queste tematiche, ovvero il disegno di legge 1421 che magari non tutti conoscono e che riforma alcune disposizioni per il sostegno e la promozione della lettura e invece il nuovo report appena rilasciato da AIE, ovvero l'Associazione Italiana Editori, che indaga un po' sullo stato del mercato italiano in questo momento legato all'editoria. E secondo me sia la proposta di legge che insomma il nuovo report di AIE ci danno tanti spunti di discussione. Allora facciamo qualche premessa ovviamente perché penso sia doveroso, io non ho alcuna competenza in materia giuridica, economica e politica, sono fondamentalmente una esperta, sì sono esperta perché ci lavoro di marketing e di marketing in realtà lato dell'approccio e strategia digitale ovviamente sempre e insomma ho una visione un po' di questo ambito soprattutto e allo stesso tempo sono una book influencer e anche se non ho diritto neanche a un panino e non valiamo nulla, siamo completamente frivoli eccetera eccetera tutto il male del mondo che ci viene detto in generale, in realtà secondo me stando dal punto di vista dei lettori ecco soprattutto perché fondamentalmente chi fa book influencer è un lettore, prima di essere un book influencer, penso di avere un po' una visione su alcuni aspetti che vanno sollevati riguardo questo tema. Ovviamente come sempre nell'infobox trovate tutti i link relativi a dove trovare questo disegno di legge e eccetera eccetera, per ripercorrere un po' insieme quello che vuol dire e link ovviamente al sito di AIE. Partirei giusto per una questione di forse rilevanza e di discussione dal disegno di legge perché è chiaramente quello che inciderà maggiormente e che incide chiaramente nella vita di tutti noi lettori e non solo, in generale sia dell'industria e del settore editoriale, che allo stesso tempo però ha a che fare chiaramente con le politiche scolastiche, con le politiche di sostegno dal punto di vista sia scolastico che non solo culturale, per alcune cose che vediamo poi dopo e allo stesso tempo ha anche delle rilevanze giuridiche ed impatto sul mercato non indifferenti. Io ovviamente mi sentivo informata al giusto quindi cosa ho fatto? Ieri sera ho stampato il disegno di legge e la proposta di legge andando un po' anche a ripercorrere l'iter della commissione che in questo caso ha poi fatto uscire questa meravigliosa proposta e innanzitutto è un disegno di legge quindi non è ancora legge, è stato ovviamente stipulato da una commissione che è praticamente solo PD, in questo caso ci sono Nardelli, Ascani, Carnevali, Ungaro, Moretto, Fregolent, Scalfarotto, Cenni, Pezzopane, Gadda, Cardinale, Sensi, Siano, Garigliano, Fassino, Marco Di Maio, ci tengono a specificare che è Marco, Fiano, Gavino Manca, Fragomelli, Annibali, Di Giorgi, Serracchiani, Enrico Borghi, anche in questo caso per specificare, Gribaudo e Rotta, quindi direi tutti in quota PD, ma non è questo che ci interessa, non siamo qui per fare politica ed esprimere pareri politici, che il cielo ce ne scampi su YouTube. Allora, il disegno di legge, vi vado a leggere ovviamente i presupposti, la Repubblica, ovviamente la Repubblica italiana, favorisce e sostiene lo sviluppo alla lettura, quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, questo ci piace sempre e ovviamente vado avanti perché chiaramente gli obiettivi in generale del sostegno alla lettura sono diversi, anche quelli di questo disegno legge, in questo caso dice a pagina 3, diffondere l'abitudine alla lettura, favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzare l'immagine sociale del libro della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, state attenti a questa parte, promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie, la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la fruizione e la diffusione. Poi c'è questo punto che sembra, dopo capirete perché sembra una presa in giro, valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura, realizzate da soggetti pubblici e privati, in particolar modo tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario, valorizzare la lingua italiana che fa molto ridere, perché ricordo che il nostro ministro degli esteri è Luigi Di Maio, e valorizzare la diversità nella produzione editoriale nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza. Sarà un po' noiosa questa prima parte, mi rendo conto, ma se non contestualizzo, secondo me sarà difficile poi passare a quelle che sono le effettive proposte, che arrivano fra qualche punto. Allora, tutto questo piano ovviamente si evince perché in numerosi punti sottolinea che senza nuovi maggiori orneri per la finanza pubblica, quindi in pratica è un disegno di legge dove soldi lo Stato non ce ne mette, per favorire tutte queste cose elencate in questo piano di azione. Bene. Tra l'altro, io ovviamente penso che ognuno di noi abbia un modo di vedere il mercato editoriale, sappiamo più o meno tutti quali sono i principali problemi, ovvero la mancanza di diffusione della lettura, ovvero i lettori sono sempre meno, perché le motivazioni sono ovviamente numerose, diverse e ascrivibili a x mila motivi, e non siamo qua per fare questo perché è troppo complesso, allo stesso tempo, mentre il numero di lettori risulta sempre più o meno stabile in un numero tra i due che va verso la sua diminuzione, la produzione letteraria e soprattutto la stampa e la commercializzazione di titoli aumenta in una maniera folle, che è un tema che riprenderò più tardi quando analizziamo invece il nuovo comunicato di Aie. A tal proposito, infatti, questo disegno di legge si pone come tutti i disegni e i decreti che si sviluppano attorno al mondo della lettura e dell'incentivo alla lettura proprio perché vuole sostenere la lettura come mezzo che raggiunge ovviamente degli scopi culturali molto nobili. E questo chiaramente apre tante porte sul in che modo si sostiene la lettura, come leggono i lettori, cosa leggono i lettori, dove vanno i lettori, perché meno persone leggono, cioè quella fetta di persone che, insomma, dal punto di vista di marketing potremmo individuare come prospect, cioè lettori potenziali che per una serie X di motivi non leggono. Perché non leggono? Ecco, sarebbe interessante fare questo tipo di indagine, ma tanto qua non c'è del marketing perché lasciamo perdere, non voglio neanche toccarlo, questo spunto se no mi viene la gastrite. Ovviamente già a me salta all'occhio una cosa che mi fa davvero sorridere, perché la trovo un'ingenuità da un punto di vista professionale, ovvero di esperta di tecniche pubblicitarie e di marketing, nell'articolo 2, direi comma 4, punto E, c'è questa cosa che secondo me è molto naive, promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali durante i festival. Allora, scrivere, promuovere la lettura presso i teatri, per me è qualcosa che è fuori tempo massimo, perché il teatro è un'arte che sta morendo. Adesso, con tutto il bene, nessuno sta giudicando chi fa teatro, ma il teatro è un'arte che sta morendo. Quando poi viene specificato più avanti, che è all'interno di programmazioni artistiche e culturali durante i festival, allora già è un altro tipo di discorso, perché vuol dire aprire i teatri per ciò che significa, non so, le presentazioni dei libri, che trovo molto giusto, per delle iniziative culturali, per, insomma, dei piccoli festival, eccetera, questo lo trovo utilissimo. Ma pensare che i teatri siano un luogo ancora rilevante per ciò che riguarda la lettura, a me fa sempre un po' sorridere, non perché sia sbagliato di per sé come concetto, ma, insomma, il teatro sta un po' morendo, diciamocelo. Vado avanti perché io di tante cose non so nulla e non voglio entrarci, non, insomma, non penso io abbia alcun tipo di opinione rilevante riguardo alle cose che non conosco e che non mi competono. Ho messo tra i miei appunti un tic sul articolo 3. Allora, il centro per la lettura per il libro è la lettura nell'ambito delle risorse finanziarie, umane, strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come sempre, provvede al censimento periodico e alla raccolta dei dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura. Interessante, secondo me, perché sono molto rilevanti, secondo me, a questo tipo di indagini, perché la parte statistica sostiene ovviamente la bontà o meno delle variazioni. Ovviamente però è senza oneri per la finanza pubblica, quindi io la trovo molto, molto problematica. Io la trovo molto, molto difficile da fare, soprattutto i dati sono sempre interpretabili in una maniera molto arbitraria e, non so, però spero che chiaramente questo censimento e raccolta dei dati statistici possa effettivamente essere utili. Salto di pala in frasca, perché chiaramente andiamo avanti con la lettura, passo all'articolo 5, che è un articolo importante perché riguarda la promozione della lettura a scuola. In generale l'approccio dell'articolo prevede la promozione della lettura attraverso dei patti tra associazioni di territorio e sistema scolastico, utile perché chiaramente per portare la lettura bisogna avere una serie di dinamiche che si integrano con quella scolastica, non solo la bontà d'animo e la bravura lasciata in mano agli insegnanti. In questo caso, insomma, c'è un punto che io ho sottolineato perché mi sembra che un pochino ci sia un approccio generale di questo documento legato a questo tema che, insomma, adesso vi spiego. Nell'articolo 5 al punto 3, punto A, dice promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura alle altre istituzioni e associazioni culturali. La cosa che si apre da qui è un po' l'approccio legato, che percorre un po' tutto il documento, alle biblioteche, che è un tema, secondo me, non da poco, perché, insomma, parte da un presupposto che continuerà anche nelle pagine seguenti, che è interessante da esplorare, ovvero, questo legame molto forte tra lettura e biblioteche, che chiaramente è un legame, direi, diretto ed è giusto che sia così ed è quasi naturale, allo stesso tempo mi viene da chiedere, però, questo patto territoriale, perché non pensate alle grandi città o alle città, però pensate ai piccoli comuni, alle province, alle aree un po' più remote, lo stato delle biblioteche, ovvero, io mi sono chiesta nei miei appunti, biblioteche come luoghi culturali, chiaramente è una cosa riconosciuta, ma i cataloghi di queste biblioteche sono sempre forniti, ampi, eccetera, eccetera, rispondono alle esigenze dei lettori, oppure li stimolano in quanto lettori e hanno cataloghi aggiornati? Questa è una domanda che secondo me è corretto porsi, tanto che a me è capitato poco tempo fa, avevo una copia in più della trilogia di Nevernight e ho chiesto ai ragazzi di Instagram, a chi mi segue su Instagram, se nei loro piccoli comuni, magari, non erano disponibili in qualche zona Nevernight, che era una serie che ovviamente ha riscosso molto successo l'anno scorso, eccetera, eccetera, mi hanno risposto centinaia di persone. E questo, secondo me, è un po' quel dato dove forse il limite della biblioteca, il limite che c'è nel rapporto tuttora con le biblioteche, inizia a diventare un po' pesante dal punto di vista del lettore. Ovviamente non sto dicendo che le biblioteche sono il male, anzi, io ho campato sulle biblioteche del mio paesino, perché la biblioteca per me era il punto dove io potevo, senza avere un euro in tasca, leggere tutte le cose che volevo leggere. La bibliotecaria del mio paese è stata con lei che più di tutti mi ha stimolato alla lettura, mi ha fatto conoscere le mie serie preferite e ovviamente la biblioteca come dimensione per me è un luogo importantissimo da coltivare e da supportare ed è per questo che faccio questo appunto sui cataloghi. Devo dire che ultimamente l'idea di andare in biblioteca diventa problematica anche per me, prima perché sono segnalate in tutte le biblioteche della provincia di Bologna, di Bologna, perché mi riscordo di riportare i libri, ma allo stesso tempo mi viene da chiedermi se per leggere una cosa che voglio leggere magari nell'immediato aspetto una fila di 20-30 persone e poi ce n'è una copia in tutta la provincia, non so quanto poi diventi un mezzo così efficace e ancora attuale per sostenere la lettura. Quindi, col fatto che anche dopo comunque diventano punti importanti le biblioteche e luoghi importanti per questo decreto legge, probabilmente il sostegno al catalogo di libri presenti nelle biblioteche è anche un po' un'indagine su chi si rivolge più alle biblioteche, perché si rivolge alle biblioteche e allo stesso tempo quali sono i titoli che probabilmente nei cataloghi di biblioteche di provincia dove magari è anche più facile che ci sia meno disponibilità, ci siano cataloghi più sforniti, però anche è più facile che ci siano tanti lettori che non hanno grandi mezzi che si avvicinano. Ecco, questa è una riflessione che condivido con voi, non è chiaramente un attacco né alle biblioteche, anzi, cioè io ripeto e ringrazio tutta la vita alla biblioteca del mio poesino e la mia bibliotecaria, cioè santo subito io se leggo è merito loro soprattutto oltre che delle mie maestre e delle elementari. Vado avanti perché invece c'è un punto importante secondo me all'articolo 6, sembra comunque quella di oggi sembra il video della rassegna stampa quotidiana, articolo 6.1 parla di contributo per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura. Questo è un punto che sento molto vicino perché si pone l'obiettivo di contribuire alle spese per l'acquisto dei libri, prodotti e servizi culturali da parte dei cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della Carta della Cultura. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma non è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile nel beneficiario e poi insomma va avanti nel dettaglio. Allora secondo me questo è un punto importante che secondo me pone anche come nasce la Carta Cultura e a chi è diretta. Allora io ho seguito le vicende della Carta Culturale e io immagino la me stessa a 18 anni con una card che annualmente mi garantiva la possibilità di comprare biglietti per i concerti ingressi ai musei e libri finita forse svuotata dopo tre ore e quest'idea che sia qualcosa di così sprecato e buttato via a me fa proprio rabbia perché probabilmente anche questo buttare via non riuscire effettivamente ad avere un controllo parte anche da un presupposto che poi non è detto è un mio pensiero ovviamente insomma a chi viene distribuita la card a tutti i 18 anni o si va su ISE questo devo indagarlo io questo è il mio limite però l'idea che sia una card per qualsiasi tipo di reddito è corretto fino a un certo punto a mio parere anche perché grava molto sulle casse dello Stato però allo stesso tempo è ingiusto che una famiglia che ha un reddito molto alto possa avere la stessa possibilità di chi ha un reddito molto basso molto molto basso perché quei soldi destinati a questi ragazzi contano molto di più di quelli destinati a una famiglia che fondamentalmente acquisterebbe comunque senza problemi ecco questa ovviamente è la mia visione della cosa però non ne sono del tutto certa anzi credo che forse la carcultura arrivi a un reddito X ma insomma raccontatemelo voi ma arriviamo ovviamente al fulcro quello frizzantino della questione ovvero l'articolo 8 l'articolo 8 punto 2 cita la vendita dei libri ai consumatori è consentita con uno sconto fino al 5% del prezzo apposto ai sensi del comma il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15% per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come i libri di testo e prima domanda che mi pongo è le famiglie di ceto basso che guadagnano poco il 15% magari non pesa molto su alcune famiglie su altre il 15% e non poter salire sopra eh incide poi è vero che ci possono essere aiuti paralleli eccetera però fidatevi che quando c'è da acquistare libri scolastici e non solo è una botta non da poco per tante famiglie ma soprattutto per chi ha un reddito davvero basso il punto 3 è ancora peggio perché per un solo mese all'anno per ciascun marchio editoriale le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui coma 2 ma comunque non superiore al 20% quindi c'è puoi farlo del 18 puoi farlo del 16 così ma cioè sei in un range di 5 punti e per un solo mese all'anno l'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno ad esclusione del mese di dicembre quindi dal punto di vista di marketing escludere dicembre significa che ottima mossa non farlo sotto natale che è il periodo dove forse si vendono più libri beh guarda dal punto di vista di marketing questa specifica è veramente una porcata però va bene vado avanti perché se no mi arrabbio prima del dovuto al punto 3 bis una sola volta all'anno i punti vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15% coma 4 invece dice sono vietate iniziative commerciali da chiunque promosse anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesi utilizzabili contestualmente successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti quindi se avete per dire una card di un negozio accedete a un sito dove si accumulano punti il tema è questo se prendete un libro scontato del 5% o del 15% dovete stare attenti voi rivenditori e anche voi che invece il libro lo acquistate perché non sono iniziative cumulabili ovvero se io ho già il 15% di sconto che è il massimo che posso raggiungere ma per dire ho raggiunto x punti sulla carta quindi volendo posso acquistare un libro con un buono sconto non lo posso più fare perché il buono sconto supera il limite massimo imposto dallo stato di scontistica applicabile ergo dal mio punto di vista puramente di marketing questo uccide alcune delle pratiche più efficaci per riuscire ad aumentare il volume di affari delle vendite legate ai libri perché significa tarpare le ali a qualsiasi strategia efficace che è stata messa in piedi sia dalle catene che dall'online allora vado avanti perché c'è una cosa che mi ha fatto molto ridere e io i miei appunti li ho scritti in maniera veramente anarchica e selvaggia perché dice decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione vari enti e organi si predispone di trasmettere alle camere una relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni e io penso di allegare la mia lettera contenente il bacio della morte dell'editoria italiana perché questo è il modo in cui ragioniamo questo apre uno dei punti che analizzerò alla fine di tutto sto pippotto perché sinceramente parlare solo di questo è un po' limitante ma aspettate perché arriva una cosa magnifica articolo 9 albo delle librerie di qualità viene istituito questo meraviglioso albo l'iscrizione all'albo dà la libreria il diritto di utilizzare il marchio di librerie di qualità in pratica il ministero si è intromesso negli affari di Hogwarts come se come se ci fosse la necessità di avere l'approvazione del ministero della censura ma vado avanti quali sono i requisiti per entrare in questo albo di librerie di qualità ovviamente senza oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica l'iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente attività di vendita al dettaglio di libri quindi solo ovviamente offline le librerie fisiche vabbè ci sta è libreria di qualità all'altronde di libri in locali accessibili al pubblico che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio adesso aggiungo l'ultima parte poi qua mi vedrete esplodere si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita di proposta di eventi culturali dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui è articolo 3 ecco qua dopo insomma finisce qua un po' la mia lettura dell'articolo sui punti più importanti qua si aprono delle strade abbastanza complesse allora intanto l'idea che quando esponi un pattacchino alla porta questo possa essere uno strumento efficace per non so quale motivo attirare più lettori attirare gente non so per me pare un'iniziativa ridicola ma comunque vogliamo il bollo all'ingresso perché questi tirano come quello di TripAdvisor ne ho un po' di dubbi però ovviamente sia questa iniziativa che ovviamente l'iniziativa legata alla scontistica sono in maniera palese due iniziative prese contro Amazon perché tutto questo disegno di legge nasce fondamentalmente da un desiderio cioè quello di riuscire a contrastare Amazon a limitare il potere di Amazon come strumento di vendita perché sta effettivamente mettendo in crisi le librerie e il settore di vendita al dettaglio dei libri quindi che cosa facciamo guardiamo solo ad Amazon troviamo delle strategie per limitare Amazon non rendendosi conto secondo me di una cosa importante quando si parla ad esempio in quello che vi ho appena letto per ultimo di catalogo molto variegato iniziative volte alla promozione culturale eccetera eccetera cioè come è possibile pensare che solo la piccola libreria la libreria indipendente la libreria in città sia qualcosa che aderisce a questo mentre Amazon che ha il catalogo più ampio di tutto il web e ovviamente tra l'altro disponibile in mille milla lingue promuove una serie di attività culturali non indifferenti perché comunque Amazon insieme anche ad Audible che è il suo brand organizzano tantissime iniziative sui territori molto più di tantissime case editrici molto più di tante librerie che non fanno assolutamente una cippa tra l'altro hanno una visione ovviamente di mercato più vicina a cosa succede effettivamente nel 2020 nella contemporaneità del mondo editoriale altra cosa che mi fa molto sorridere è proprio legata ad Audible cioè Audible è un servizio che apre la lettura anche a tutte quelle persone che non hanno possibilità ovviamente di vedere perché è una cosa non scontata che insomma questo abilismo che noi continuamente applichiamo va pensato anche su queste cose e soprattutto è un servizio innovativo che promuove la lettura in qualche modo che promuove in qualche modo anche un apporto culturale ecco e l'idea di aver confezionato questo decreto legge comunque evidentemente contro Amazon e contro un player che davvero insomma se questo libro in libreria lo trovo a 19 euro c'è ampia possibilità che su Amazon lo trovo sempre a 16 perennemente ecco a me questo fa proprio sorridere perché nel voler contrastare questo grande nemico con la vendita online faccio due errori davvero molto grandi e molto gravi il primo è mettere per iscritto quali sono le caratteristiche per aderire a questo albo famoso della libreria di qualità non rendendosi conto che ovviamente la libreria di qualità può corrispondere tranquillamente al competitor che odiano a quello che stanno attaccando perché tutto ciò che viene messo giù per avere i requisiti fondamentalmente questi requisiti ce li ha anche Amazon anzi forse molto di più di tante altre librerie però ovviamente manca la parte della vendita al dettaglio in un luogo fisico non lo so è veramente risibile l'altro problema riguarda la scontistica ovvero ci sta che tante librerie soffrono il fatto di non poter applicare tanti sconti perché è chiaro che la vendita al dettaglio passa da casa editrice quelli che stanno in mezzo le figure che stanno in mezzo che sono i distributori quindi c'è già un rincaro perché c'è il distributore e oltre al rincaro del distributore c'è il rincaro della libreria come è ovvio che sia perché insomma il libraio alla fine un pochino deve guadagnare quindi a me fa molto sorridere che non si sia pensata la cosa più ovvia ovvero che chi è che fortemente sarà penalizzato da questa legge Amazon che fondamentalmente non credo abbia nessun problema a contrastare questo tipo di politiche e comunque può trovare degli escamotage e comunque campa lo stesso in tutti gli altri settori le librerie o l'utente finale perché c'è sempre questo problema no ok applico uno sconto del 5% massimo che va benissimo ma questo porterà a un aumento delle vendite o porterà a una diminuzione delle vendite a me fa veramente sorridere pensare come per salvare le librerie le portino a vendere di meno perché quando le cose costano di più non sono in offerta c'è meno possibilità di promuovere le offerte non è che i lettori si rivolgeranno alle librerie a quel punto ma magari compreranno meno libri perché magari su Amazon prima c'erano alcune offerte che li potevano tentare e quindi anche l'idea di prendere dei libri in più poteva non essere un problema quando invece la possibilità di avere un po' più di sconto viene annullata non è che venderanno di più le librerie non venderanno che è veramente la cosa più sciocca di tutta questa legge poi si può aprire tutto il discorso sul come Amazon può avere quel tipo di scontistiche dove va a risparmiare e sicuramente la prima cosa che salta all'occhio sono i diritti dei lavoratori e la concorrenza sleale in alcuni ambiti eccetera eccetera bene allo stesso tempo è una visione miope di come funziona il mercato nel 2020 è una visione davvero molto limitata ed è questo il problema di questa legge proprio parlando di utente finale ricadute sull'utente finale e anche sciocca idea che insomma le librerie a questo punto venderanno più che Amazon che mi fa ridere mi aggancio anche a un dato importante che poi mi porta a invece parlare dell'articolo di Aie infatti dall'articolo di Aie ma anche legato a questo insomma questo documento che è molto risibile salta fuori subito una cosa cioè il prezzo medio dei libri in Italia è 19 euro ed è un dato che viene visto come grande dato perché fino a pochi anni fa era 23 ecco io qua ho avuto un attimo di gelo perché sono andata a cercarmi i dati per dire corrispondenti al mercato inglese è vero che il mercato inglese se lo può permettere perché i libri in inglese viaggiano in tutto il mondo quelli italiani no ma la differenza tra la media inglese e la media italiana è che in Italia la media di un libro è 18 euro più o meno in Inghilterra è 7 pound poi ci chiediamo perché in Inghilterra leggono di più rispetto all'Italia la differenza di quanto ti incide ogni mese con l'acquisto di un libro pensate a chi non ha lo stipendio chi ha uno stipendio basso chi non fa il book influencer e quindi non ha le buzz con le case editrici come dite voi nei commenti però è una cosa ridicola perché è ovvio che quando un libro ti costa 7 pound ma acquistare un libro ti costa 20 euro com'è possibile che ci si possa permettere di leggere tanto poi voi direte ci sono le biblioteche certo ma qua stiamo parlando del mercato editoriale quindi del cercare di sostenere l'economia di questa industria e ora entriamo nello specifico dell'industria come voi capite acquistare un libro a 7 pound e acquistarne uno a 18 euro una strada ti porta magari ad acquistare anche quelli a cui non sei particolarmente attratto ma che puoi fondamentalmente rivendere regalare quando non ne hai più voglia 18 euro iniziano ad essere quella spesa che dici ci penso molto bene perché pensate a tutti gli studenti ho comprato uno due libri al mese hanno finito se no non mangiano pensate a chi guadagna pochissimo non si può permettere i libri a 18 euro 18 euro significa la spesa di una settimana per tante famiglie ma andiamo ai dati perché Aya a quanto pare è entusiasta perché a quanto pare l'editoria italiana nel 2019 cresce il fatturato cresce del 4,9% e le copie vendute sono il 3,4% in più e quindi insomma tutti felicissimi perché ci sono tantissimi dati positivi il settore torna con un giro di affari superiore a quello del 2011 ovviamente il 3,4% non è rispetto all'anno prima questi dati sono fatturato in aumento rispetto al 2010 che questo fa un po' sorridere perché di solito i settori industriali e le aziende fanno i calcoli tra un anno e l'altro invece vabbè dal 2010 ha aumentato in 10 anni del 4,9% ok e forse in questi 10 anni cosa è cambiato cosa c'è stato che ha veramente vabbè mi fate sprecare tempo perché penso siano considerazioni ovvie in alcuni casi tra l'altro c'è stato l'ingresso degli ebook che rimangono una parte consistente del mercato non molto consistente ancora in Italia perché hanno dei prezzi criminali gli ebook però allo stesso tempo c'è tutta questa piattaforma online insomma la community online l'idea della condivisione della lettura online gli ebook e non solo il cinema sostegno del settore editoriale le serie tv eccetera insomma le variabili sono tante ma stiamo calcolando un 4,9% su 10 anni è ridicolo però ovviamente il problema è la pirateria quanto pare la pirateria sottrae 247 milioni di euro di vendita quindi fondamentalmente a me verrebbe da dire se c'è così tanta pirateria che incide tra l'altro 240 milioni di euro un dato così ampio probabilmente mi viene a chiedere ma quindi ci sono così tanti lettori perché se è un volume così consistente evidentemente sono tanti lettori o sono 247 milioni distribuiti in 10 anni e allora questo dato è molto ridimensionato però facciamo finta che invece il problema sia che la gente pirata i libri quindi ci sono questi lettori questa è una buona cosa poi mi piace che il presidente dell'AIE dica che i buoni numeri del 2019 testimoniano il lavoro fatto dagli editori di questi anni per recuperare terreno è veramente dare una pacca sulla spalla agli editori non meritata allo stesso tempo i dati sulla lettura la perdurante fragilità delle librerie della grande distribuzione e la piaga della pirateria richiedono un intervento pubblico importante a sostegno del mondo dei libri vabbè e qua qua proprio è la visione più miope e stereotipata che si possa avere dell'industria editoriale il mercato italiano ha un valore di 1,4 miliardi in pratica il mercato italiano complessivamente di tutte le case editrici tutta la distribuzione tutte le librerie tutto il mercato editoriale ha un valore di 1,4 miliardi per farvi capire qua in Emilia Romagna abbiamo tanti distretti produttivi quello più vicino forse alla mia zona è quello di San Lazzaro Ozzano e Idice e io penso che 3-4 aziende del territorio da sole cioè quindi siamo in una parte minuscola nel raggio di 10 km quadrati producano più che tutta l'industria editoriale quindi è un dato ci stiamo facendo come si direbbe in maniera molto come dire sagace da queste parti le pippe per niente perché stiamo parlando di un mercato che è piccolissimo è veramente minuscolo però c'è una molteplicità di voci di reti di agenti di per un mercato di 1,4 miliardi che so che sono tanti soldi visti così ma immaginatevi tutti gli agenti qua dentro tutto ciò che comporta l'editoria stiamo parlando di un mercato minuscolo 1,4 miliardi non spostano una manovra economica di un governo cioè non è nulla è veramente sorprendente come riusciamo a portare queste discussioni a dei livelli assurdi quando stiamo parlando di fare dei soldi però va bene 4,9% in più sì poi io ovviamente passo sempre come la cattiva perché è quella che bacchetta tutti però porca miseria mi viene da pensare che qua come vengono letti questi dati chi li legge questi dati ma va bene andiamo avanti ovviamente passiamo alla questione dove si vendono i libri secondo questo report mentre le librerie perdono terreno guadagna molto terreno la vendita online è il 2020 siamo tutti stupiti che la vendita al dettaglio abbia delle flessioni importanti eticamente si può discutere se questo sia giusto corretto eccetera eccetera sono d'accordissimo e anzi questo è un problema grosso che riguarda tutti i settori del nostro paese ma allo stesso tempo ragazzi ci sorprendiamo che l'online ha tanto spazio soprattutto quando online i lettori hanno più sconti che offline in inglese si direbbe stating the obvious in basso proletariato si direbbe grazie grazie alle grazie al cazzo vabbè stabile la grande distribuzione e poi c'è questa corsa la narrativa italiana in pratica cresce il valore della quota di mercato della narrativa italiana sia per copie che proprio per vendite in generale e della non fiction specialistica strano come dato però nella non fiction specialistica rientrano tutti quei libri degli youtuber e non solo che comunque sono una fetta molto importante del mercato editoriale in più in questo settore sono compresi tutti i manuali quelli per i test ingresso la varia di qualunque insomma vabbè in più è sempre in crescita anche se dobbiamo specificare che rallenta un po' perché sia mai settore ragazzi e bambini che è molto vasto e nessuno sa che cosa c'è dentro nello specifico vorrei capire poi la fiction com'è divisa i prezzi e i settori della fiction come sono distribuiti all'interno di questa logica in questo caso non abbiamo il report preciso molto dettagliato ma abbiamo un grande discorso generico sui dati aggregati più grandi ecco dopodiché c'è questa parte dove c'è il sostegno alla domanda cioè la 18 up la 18 up per come viene intesa qua che immagino sia la carcoltura la 18 up è effettivamente parte importante che ha contribuito all'aumento del fatturato cioè nel 2018 dice che sono stati spesi 132 milioni di euro in libri con la 18 up ergo su 1,4 miliardi capite che sono tanti i soldi è un decimo circa del fatturato e non è poco il problema è che quest'anno è stato però molto ridotto l'importo destinato alla 18 up nella legge di bilancio quest'anno e quindi insomma si passa da 290 milioni del 2018 a 160 sarà sicuramente un impatto sul mercato pesante e su questo insomma capiamo poi ovviamente si parla di pirateria si va alla pirateria e la pirateria è il male del mondo perché il 23% del valore complessivo di mercato questo viene calcolato incide sul mercato editoriale ma ora io perché ovviamente questa conclusione dice Ipsos calcola la perdita di posti di lavoro nel settore bla 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 ma parliamoci seriamente non prendiamoci per il culo perché è una cosa che io odio allora sia questo disegno di legge che questo report non tengono conto di cose fondamentali a mio parere il primo è che siamo nel 2020 nel 2020 il mercato digitale è un mercato in crescita perché la gente si rivolge all'online la gente vive soprattutto la propria vita online si può essere contrari si può non volere questa cosa bla 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 va bene onesto ognuno è giusto che insomma persegua i propri ideali e le proprie convinzioni però non si può fingere che queste cose non esistano non è possibile pensare che l'online è da demonizzare l'online in realtà ti dà la possibilità di aprire mercati incredibili se uno ha una buona strategia e un buon modo di approcciarsi all'online anche l'editoria ne può beneficiare è inutile girarci attorno c'è sempre anche il problema del discorso che io porto avanti da un sacco di tempo che è la questione della competenza l'editoria non giriamoci attorno è un settore di dinosauri vecchi una struttura che andrebbe smantellata per come è concepita oggi perché si parla sempre di agenti esterni che contribuiscono al mancato sviluppo dell'editoria cose che ostacolano l'editoria ma pensiamo a quanto è vecchio il modo di comunicare quanto è vecchio il modo di approcciarsi alla lettura in generale dal punto di vista delle case editrici nel 2020 quante case editrici sanno comunicare online nessuna se non rarissime eccezioni quante case editrici poi non prendiamoci in giro sono strutturate adeguatamente per la loro comunicazione online nessuna se non pochissime eccezioni praticamente nessuna non prendiamoci in giro e poi mi fa molto ridere che la questione dei posti di lavoro dipenda da il sommerso che emerge dalla pirateria quando non viene presa in considerazione quanto l'editoria sia forse uno dei settori dove le persone vengono più sfruttate e maltrattate dal punto di vista dei diritti dei lavoro non prendiamoci in giro questa è la cosa che io continuo a suggerire quante persone lavorano in editoria dei prezzi da galera che dovrebbero essere vietati in qualsiasi casa editrice seria cioè io faccio l'esempio se una grossa casa editrice riesce a chiedermi di utilizzare una mia foto in maniera gratuita pensate al resto pensate a quanti editor traduttori lavorano per paghe da fame pensate a quanto le aziende non si strutturino non facciano corsi di aggiornamento poi prendano dei professionisti da pagare alla fame e poi li lasciano a casa di punto in bianco perché hanno degli stagisti che fanno lo stesso lavoro male e ovviamente senza esperienza gratis oppure gente disposta a farlo gratis proprio perché devono costruirsi un portfoglio e si entra in questo circolo vizioso dove tutte le professionalità sono una contro l'altra sempre perché tutti si sentono messi in discussione e non lo so a me fa veramente molto ridere che il problema dell'editoria sia la pirateria quando è un settore industriale vecchio con un approccio vecchio ad ogni cosa è una roba che mi fa uscire di testa poi io ovviamente lo guardo dal punto di vista ovviamente marketing e comunicazione perché è il mio settore dove lavoro io nella vita di tutti i giorni per guadagnarmi la pagnotta per poi fare video stupidi da mettere su youtube però è veramente una roba che mi fa volare mi fa uscire di testa come questo disegno di legge creato unicamente per contrapporsi al più grosso player entrato nel mercato per salvare un morto che cammina che è l'editoria perché è quello l'editoria cammina ma non fa nulla per cambiare se stesso è esattamente ciò che Tomasi di Lampedusa descriveva nel Gatto Pardo tutto deve cambiare perché nulla cambi perché tanto alla fine l'editoria non interessa cambiare perché l'editoria si considera un settore elitario un settore dove per accedere devi non so fare uno spergiuro non so entrare in questa sorta di rituale dove ti umili talmente tanto che poi alla fine e poi l'importante è non cambiare se stessi non capire che è un settore da ristrutturare profondamente come un po' tutti gli altri settori in Italia perché in Italia l'approccio digitale è raro è sbagliato ed è veramente ancora arretrato mi fa sorridere come tutto questo stia comunque parlando in una maniera vecchia di qualcosa che andrebbe aggiornato e questo è il mio unico parere quindi niente io ovviamente ho sprolocchiato tantissimo voglio sapere tantissimo il vostro parere soprattutto se avete un approccio e un punto di vista più competente del mio dal punto di vista sia legislativo che economico perché sono i due settori dove io non ho alcun tipo di competenze quindi parlo con le chiacchiere da bar perché sono le uniche competenze che ho e quindi sono molto curiosa ci sentiamo giù nei commenti e direi che per oggi può essere tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao